rossi è stato molto bravo a sfruttare la via in situazione io in Genoa a cascare in piccoli giochetti trapotenti che hanno fatto diciamo all'inizio la sua la sua fortuna e poi per carità poi ha fatto la sua strada e mi è venuta anche molto molto bene ma all'inizio lui si vedeva anche un po' drastante in Giappone usciva sempre la cena con i giornalisti e faceva la cerchia io un po' meno ero un po' stivo e stavo un po' più tranquillo a letto presto avevo le mie cose non ero nel gruppo romagnolo il gruppo benzo era un po' fuori ma perché non mi sentivo integrato allora lì si è formato un po' questo chi teneva per me non c'è la stampa chi non teneva per me e nei trambotenti si sono cascato e lui è stato un bravo danno e poi ha calcato la mano tipo con la mambo, la cinta, la schifo, il leggo, il leggo, il leggo, non stato si doveva fare l'inconomi siamo amici ovviamente però lui ha un po' strumentato questo e alla fine ha creato non c'è non ci piacevamo, non siamo mai piaciuti e sono creati due partite, un derby con gli anni poi ci siamo trovati anche a correre questo anche quando non eravamo nella stessa categoria però già eravamo rivali è un po' anomalo no? se tu non corri anche se sei della stessa nazionalità non corri nello stesso campionato, categoria come fai a essere rivale di un altro? era stata un po' messa a sua tocca